Buongiorno a tutti e bentornati finalmente sul mio canale e benvenuti nel video analisi pre-partita di Udinese-Lecce-Gara Valida per la nona giornata del campionato di Serie A. Prima di cominciare a parlarne vi invito a lasciare tanti pollicioni in su, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto, fatemi sapere con un commento qui sotto la vostra su questa partita e ovviamente vi aspetto domani, ovvero lunedì 23 ottobre a partire dalle ore 18.20 qui su YouTube per la consueta live reaction e radio cronaca della partita. Che dire, finalmente torniamo a parlare di calcio giocato, finalmente ritorno il nostro amato Lecce dopo questa pausa nazionale che sembrava veramente infinita e dopo tutto il polverone che si è alzato riguardante il calcio scommesse, ma non parliamo assolutamente di questo, concentriamoci su questo Udinese-Lecce che sarà sicuramente un match molto importante quanto difficile. Affrontiamo un Udinese a Udine, un Udinese che sta vivendo forse il peggiore inizio di campionato degli ultimi anni e quindi mi aspetto un Udinese che partirà aggressiva sin dal primo minuto. E quindi per questo dobbiamo essere abili a contenere i loro attacchi, controllare la partita ed attaccare e colpire gli avversari nel momento opportuno. Perché l'Udinese, dal lato che non ha ancora vinto in questo campionato, è al diciassettesimo posto a quota 5 punti. Quindi sicuramente vorranno fare dei punti importanti. Ma stessa cosa noi, perché siamo momentaneamente al decimo posto a 12 punti e ovviamente fare dei punti a Udine sarebbe davvero molto 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 importante perché veniamo da due sconfitte contro i Piantus e Napoli e poi il pareggio maturato in casa contro il Sassuolo. Un pareggio dolce amaro perché comunque avevamo rimontato e recuperato dopo lo svantaggio e dolce perché comunque la squadra c'è, ha dimostrato veramente che può fare un bel campionato e quindi speriamo ovviamente di continuare su questa scia positiva sperando ovviamente di tornare a vincere. Ma ripeto, non sarà facile perché dobbiamo essere davvero molto molto concentrati e attenti a questa Udinese. Quindi, bande alle ciance, adesso passiamo al momento clou del video ovvero le probabili formazioni della partita di domani sera e mi era mancato dirlo, mi sposto per far comparire la lavagnetta. Eccola qui. Quindi, partiamo ovviamente dal nostro Lecce. 4-3-3 con Falcone in porta, Jean-André sulla fascia destra, Pongracic e Baschirotto che saranno il duo a formare, diciamo, il duo di difensori centrali. Sulla sinistra, ballottaggio come al solito tra Dorgu e Gallo, ma io ripunto ancora una volta sul terzino danese arrivato dalla primavera. Centrocampo a tre, formato da Kabba sulla destra, Ramadani al centro e sulla sinistra. C'è un ballottaggio Uden, Rafiat, ma io punto sul centrocampista francese. Attacco a tre invece, formato da Nicola Christovic al centro. Pontus Alquis sulla fascia destra e sulla sinistra. Vediamo comparire finalmente il nome di Lamek Banda che si giocherà una maglia del titolare con Gabba e Strefezza sulla fascia sinistra. Bello a rivedere l'attaccante Zabbiano di nuovo in campo, ritorna dall'infortunio e quindi al 100% a disposizione del nostro caro mister D'Aversa. Secondo me è un 51% Strefezza, 49% Banda. Per me comincerà dal primo Strefezza per poi rivedere a partita in corso Banda. Dovesse essere il contrario mi andrebbe bene comunque così perché Banda è mancato molto al gioco offensivo del nostro Lecce perché con la sua velocità creava sempre superiorità numerica ma Banda, come sempre ho detto, manca quel qualcosina negli ultimi metri per concludere l'azione, diciamo, offensiva. Quindi, tolta ovviamente la nostra formazione, passiamo invece alla formazione dei nostri avversari. L'Udinese che si schiererà con un 3-5-2 che potrebbe camuffarsi in un 3-4-2-1, un 3-5-1-1, insomma, vediamo. Silvestri in porta, difesa a tre con Christensen, Bujol e Perez. Centrocampo a cinque con Pereira e Camara che saranno i due staini di centrocampo. Centrocampisti centrali che saranno Lovric, Wallace e Samarzic, ovviamente un giocatore da tenere assolutamente d'occhio. attacca a due, formato da Tuven e Lucca. Quindi queste sono le due formazioni. L'ultimo Udinese-Lecce che si disputò, appunto, fu l'anno scorso, terminò con la sfida di un risultato di 1-1. Che dire, vi ringrazio di cuore per aver visto questo video. Forza, Lecce, sempre. Vi aspetto domani nella radiocronaca della partita. Ancora buona giornata a tutti voi e buona domenica a voi e alle vostre famiglie. Ciao a tutti.